Sarebbe stato un malore a provocare la morte di Ignazio Pompeano e quindi l'incidente di ieri lungo la SS18 tra i comuni di San Nicolarcella e Scalea. L'85enne, residente a Napoli ma che da anni viveva a Scalea, potrebbe essere stato occolto da un infarto mentre era alla guida della sua Hyundai Blue. L'uomo avrebbe quindi perso il controllo dell'auto che, invadendo la carreggiata opposta, si è schiantata contro la Fiat Panda che procedeva in direzione nord con a bordo due persone, padre e figlio di San Nicolarcella. Saranno i risultati e gli accertamenti del medico legale effettuati già ieri alla clinica a tricarico di Belvedere Marittimo a confermare la causa del decesso. Fortunatamente le altre due persone coinvolte nell'incidente non sono in pericolo di vita. Padre e figlio hanno riportato ferite gravi su tutto il corpo, rottura di tibia e perone, tagli profondi sul volto. Immediatamente soccorsi dai medici del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Iannelli di Cetraro. Per il giovane è stato poi necessario il trasferimento d'urgenza all'annunziata di Cosenza, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per le ferite riportate sul volto. Da indiscrezioni trapela che lo stesso giovane stava ancora riprendendosi dalle conseguenze di un altro incidente stradale, nel quale era rimasto coinvolto non molto tempo fa. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica di Paola, dove sono stati trasmessi i rilevi effettuati dalla polizia stradale. Sul posto ieri anche gli agenti della Polizia Municipale dei Comuni di Scalea, San Nicolarcella e Praia Mare, che hanno controllato il traffico sulla SS18, deviando i mezzi che viaggiavano in direzione sud allo svincolo per San Nicolarcella per proseguire sulla vecchia statale. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino alla rimozione dei veicoli incidentati, dopo le opportune verifiche e rilevi della stradale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che con il loro tempestivo lavoro hanno scongiurato il pericolo di un'esplosione.